Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 4 settembre 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno? Meglio lasciar fare agli altri. Se stamani vi svegliate imbambolati, così stanchi da non riuscire a prendere decisioni, evitate almeno di intralciare quelle altrui, lasciate scegliere a loro, adeguandovi di buon grado a quanto vi proporranno. Questo è il consiglio della luna cancerina all'opposizione, probabilmente neppure loro avranno progetti arditi, il primo giorno di vacanza dopo una settimana da urlo è sempre un po' sfasato, quasi vacuo, svuotati dagli impegni e dai ritmi della quotidianità vi sentite sbalestrati, senza fretta di stilare programmi, lasciate piuttosto che siano il luogo e la gente a venirvi incontro. Dispendiosa la serata tra cena, spettacoli, ballo, realizzate che le località vacanziere un tempo modeste, ora spopolano, più foto su social, più pubblicità, più prenotazioni e quel piccolo angolo di paradiso che ricordavate è divenuto un posto alla moda, con costi adeguati alla richiesta. Il fato, il destino che governa gli eventi, le occasioni, gli accadimenti. Quello che accadrà sarà perché è il vostro destino. È possibile che vi sentiate bloccati, immobili, insicuri, vi sembrerà di essere ostacolati in tutto. In amore ci sono molti ostacoli alcuni dei quali potrebbero essere insormontabili, anche nuovi incontri e nuove opportunità sembrano diradarsi. Oggi vi prenderete una piccola rivincita con qualcuno che vi ha creato problemi da tempo. Non eccedete. Sappiate misurare le parole i gesti. Non trascurare il tuo animale domestico. Fuggi via dai pettegolezzi. Giornata piacevole. Qualcosa che desideri da tempo potrà arrivare. Ottimismo. Un amore di vecchia data ti potrebbe contattare. Giornata serena anche se in serata potresti avere qualche contrattempo. Se venere e la luna favoriscono i ritorni d'amore, nei singla aumenta il loro fascino e viaggeranno per nuove conquiste. I nati di lunedì potranno beneficiare di notizie positive che arrivano per e-mail o per messaggio sul cellulare, proposte interessanti e informazioni preziose li raggiungeranno. I nati di domenica trarranno vantaggio da Giove e Saturno favorevoli, sono favoriti il lavoro e gli affari. Per gli altri potrebbero esserci discrete novità in campo sentimentale, compreso il rafforzamento del legame con il partner. Oggi potreste essere feriti da qualcuno che improvvisamente irrompe nella vostra vita dal vostro passato, prendete le adeguate misure per rintuzzare le offese, senza però agitarvi troppo. Ascoltate gli altri, almeno oggi è d'obbligo che lo facciate. Evitate di voler affermare le vostre idee a tutti i costi e ricordate che in fondo il rapporto quotidiano con le persone implica rinunce e silenzi. È giunto il momento di dire basta alla sopraffazione del partner e far valere le proprie ragioni. Benché la luna sia oggi imbrunciata per metà giornata, un cielo di settembre abbastanza discreto vi attende, con un luminoso urano, in ottimo aspetto dal segno del toro, intenzionato a farvi trascorrere momenti lieti in famiglia, specie se fate parte dei capricorni della terza decade. Bella mattinata tra scarpinate e pedalate in spiaggia, in montagna, negli uliveti, guardare e respirare un po' diverte vi fa sentire subito diversi, più sereni e più sani. In più a darvi una mano intervengono Nettuno e Urano, entrambi in posizione amichevole, perfetti per instaurare un dialogo intimo o darsi a letture romantiche che ispirano emozioni intense e splendide creazioni. Pomeriggio e serata dispendiosi, perfino voi famosi per il braccino corto in vacanza, sobbillati dalla luna e da Plutone, vi lascerete un po' andare. Amore ed Eros. Dopo una giornata di malumori e incomprensioni una buona cena vi rimette in pace non solo con voi stessi, ma anche con il partner. Parole dette d'impulso capendo Roma per Toma, minacciano di allontanarvi, la soluzione sta nel linguaggio universale delle carezze, da quelle almeno non nasceranno malintesi. Plutone, pianeta dell'Eros vi continua a voler bene dall'Acquario, insieme a Mercurio dall'amico segno della Vergine. Se il vostro cuore è ancora libero, lasciate aperta la porta e fatevi corteggiare da chi ha deciso di volervi catturare e prendere. Un'affettività forte e stabile vi caratterizza, sia che abbiate un rapporto che si porta avanti nel tempo o che abbiate un legame da poco iniziato, specie se appartenete alla seconda decade. Lavoro e denaro Mattinata di scontri con il socio se siete in affari, impegnati a sgobbare per divertire gli altri, con i compagni di viaggio o di escursione se gli altri non seguono le vostre indicazioni e vanno a impantanarsi nel posto sbagliato. Peggio per loro, siete voi gli esperti della natura, delle montagne impervie, dei fiumi insidiosi da guadare, in un'altra vita avete senz'altro fatto gli esploratori, quantomeno avete una cultura vastissima in fatto di geografia, storia, scienze naturali, botanica, dunque gli altri dovrebbero avere l'intelligenza di darvi retta. Sogni rivelatori, magari anche prodromi di una piccola vincita. La vocazione più chiara per voi è data da occupare posti di comando o dall'esercizio del potere, politico, economico, intellettuale, artistico, come decreta Saturno, corpo celeste dell'autorità e del senso di responsabilità. Ha un segno concreto e laborioso, segno di terra infaticabile come il vostro, si addice ogni sorta di professione prescelta. Nello specifico abbiamo la capacità dei dentisti, degli osteopati, dei medici chirurghi. Il segno annovera degli editori, degli chef e infine anche degli enologi di gran classe. In campo artistico troviamo invece ottima attitudini canore e una discreta abilità nell'interpretazione canora, cinematografica e televisiva. Benessere. Per e integrate i sali persi per via del caldo eccessivo, bevete molto, magari tisane corroboranti. Cristallo del giorno la giada, che gli spagnoli chiamavano pietra del fianco, alludendo appunto alla zona arenale, piuttosto delicata nel vostro segno. Per lei, ogni volta che lasciate casa vostra qualcosa vi stringe la gola, la paura che succeda qualcosa, i ladri, una tempesta, un incendio. O forse è solo la nostalgia, attaccati come siete ai vostri spazi, alle vostre cose, chiudendo la porta ne avvertite già la mancanza. Per lui, single di ferro, ma di tanto in tanto sfiorati da una fantasia. E se questa vacanza coincidesse con l'incontro fatale della donna della vostra vita? Mai dire mai, anche se non è mai successo potrebbe sempre accadere. Colore delle emozioni, verde pino. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.